amici del canale ben ritrovati questa mattina nuovo mare calmo siamo proprio nel momento più l'alba rifacciamo qualche lancio e vediamo che succede non si sa mai ho di top water qualche jet che perché no qualche gomma e mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale ciao allora trick oh 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 colorazione un po più naturale un po' di più Grazie a tutti. Grazie a tutti.